Buonasera e benvenuti a 12 Porte, settimanale di informazione della Chiesa di Bologna. Apriamo questa sera il notiziario con una ricca pagina che si riferisce alle tante iniziative promosse in occasione della festa dell'Immacolata Concezione. Si è rinnovato anche quest'anno il tradizionale omaggio floreale organizzato dai frati di San Francesco all'Immacolata Concezione raffigurata nella statua di Piazza Malpighi. La fiorita è stata aperta dai vigili del fuoco che sono saliti con la loro autoscala in cima alla colonna. Come ormai tradizione sono seguiti gli omaggi delle autorità cittadine e delle rappresentanze delle parrocchie e delle istituzioni cattoliche. L'omaggio floreale che abbiamo compiuto è il segno della nostra devozione e della nostra fiducia. Con queste parole l'Arcivescovo si è rivolto alla Vergine con una breve preghiera nella quale ha affidato alla sua intercessione le necessità di tutte le famiglie, specialmente di quelle che sono nella povertà, i bambini, i giovani, i malati e gli anziani. Un particolare ricordo per i sacerdoti, i seminaristi e per tutti i consacrati. Al tuo cuore, ha detto ancora il Cardinale, affido la dedizione di quelli che nella politica, nell'esercito, nel sindacato e nel servizio dell'ordine pubblico si impegnano per una giusta, pacifica e sicura convivenza.